No, no, a me è perfetto, si vede perfettamente sotto l'aria, no? Attenzione, scende giù. Sì, allora l'ho vista. No, 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 no. Gianni, lascia aperte, sto prendendo io. Ammazza quando è grande. L'aereo, la stella. Ecco la stella come punto di riferimento. Ho preso la stella come punto di riferimento. Ho preso la stella come punto di riferimento. Sì. Ha accelerato? Insomma di più. Sta scendendo? Sì. Non la riesco più. No. Niente, è sparita. Sparita.